anticipi di serie a di ieri sera il torino batte 2 0 lecce con un bellanova in forma smagliante che fa anche il gol l'ennesimo gol di zapata lecce torino che entra prepotentemente nella zona europa inter inter batte 4 0 la salernitana 25 tiri in porta contro uno della salernitana la prima partita di liberani sulla panchina della salernitana sicuramente è stata in salita l'ennesimo gol di lautaro martinez e di turam questo porta a capire quanto è forte la corazzata nero azzurra e che indubbiamente probabilmente la salernitana doveva impostare la partita di ieri sera in maniera completamente diversa che dire in questo momento non non ha probabilmente un inseguitrice l'inter perché con la vittoria di ieri va più 10 sulla juve juve che si deve guardare dal milan che giocherà a monza juve che deve tornare a vincere se vuole continuare bellissima la lotta per il quarto posto indubbiamente ieri sera comunque si è riaffacciata la zona europa al torino e si è visto un inter che in questo momento è indubbiamente la squadra più forte del campionato con una salernitana che però poteva usare usare un po di più soprattutto perché se ti devi salvare non puoi subire per tutta la partita buon campionato a tutti per la giornata di oggi di domani e di lunedì